Simone Giannelli in versione davvero particolare Non sto lì a diciamo crogiolarmi a casa per questa cosa qua se piace alle ragazzine va bene però niente di che L'avversario primario sia siamo noi noi stessi Penso che sia bello dare spazio a tutti gli sport equamente Devo ancora tanto crescere da questo punto di vista ma penso che i miei compagni la squadra l'allenatore Angelo mi sta aiutando molto sotto questo punto di vista e cerco sempre di dare un qualcosa in più anche da quel punto di vista lì insomma Sarà sicuramente una battaglia dovremmo fare tutto quello che possiamo per cercare di portare a casa dei punti e una bella partita insomma Tra adesso e lo scudetto c'è ancora un sacco di cose da fare quindi andiamo passo per passo Orgoglio personale perché portare a casa un mondiale per club non è una cosa scontata anzi e noi siamo riusciti a farlo e siamo tutti molto felici e orgogliosi di quello che abbiamo fatto Uno dei migliori al mondo perché riesce sempre a tirare fuori il meglio da ognuno di noi Noi diamo sempre il 100% in campo e noi sappiamo che loro ci sono sempre per noi Tennis, l'NBA mi piace un sacco È una cosa forte, è rara però quella che c'è è tanto bella Un sogno Ma questo qua forse me lo tengo per me dai